Buongiorno, sono Antonio Invernizzi, professore merito dell'Università di Torino e socio nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino. Ho lavorato sul campo a lungo in Iraq, Iran e Turkmenistan e mi sono occupato soprattutto della diffusione della cultura ellenistica in Asia. Oggi parlerò di Eracle alle porte dell'Asia con una precisazione che queste porte di cui si tratta qui sono già addentro all'Asia, a Bisutun. Eracle le aveva già oltrepassate per raggiungere il Gandhara nel subcontinento indiano. Perché allora porte dell'Asia qui? La denominazione ed uso corrente nella letteratura archeologica per Bisutun. È riferimento allo studio che l'archeologo e storico tedesco dell'Iran antico Ernst Herzfeld aveva pubblicato nel 1924 con il titolo Amtor von Asien, uno studio dedicato in particolare alle testimonianze archeologiche di questa località nei monti dello Zagros. Località che rappresenta in senso stretto la porta della media e ancor più in là la porta dell'Asia. Chi saliva dalla Mesopotamia all'altopiano iranico è introdotto in questo punto cruciale della via reale a Chemenide che collegava a Babilonia e in seguito Seleucia al Tigri a Ecbatana in media e poi a Persepoli verso sud e all'Asia centrale verso nord-est. La rupe di Bisutun è un elemento determinante del paesaggio, ben visibile da lontano. Qui Dario la Chemenide aveva fatto scolpire a 66 metri di altezza tre iscrizioni con i formi in elamita, babilonese e persiano. I rilievi che si vedono alla base sono di età più tarda, partica e sassanide. E oltre alle iscrizioni un grande basso rilievo in ringraziamento al sommo dio Aura Mazda per la vittoria sui ribelli che nel 522 a.C. gli aveva assicurato il trono dell'impero a Chemenide. Il monte era sacro a Zeus, cioè Aura Mazda. Ce lo dice Ectesia che lo chiama Baghistanon Oros e l'abitato compare nell'itinerario di Isidoro di Carace come Baghistana. Il termine deriva dalla voce iranica baghastana, che significa luogo del dio o degli dèi. Ctesia, che frequentava la corte Chemenide, sapeva dell'esistenza qui del rilievo di un campo militare, di un paradisos irrigato dalla sorgente che scaturiva dalla rupe. Ma preferisce attribuire tutto questo alla regina Semiramide, mitico nome certo di maggior fascino per i lettori greci. Il luogo aveva già attirato i predecessori medi di Dario, che costruirono un impianto recinto di mura di pietra ai piedi della rupe, indagato in maniera incompleta e interpretato come fortezza dagli scavatori tedeschi. Questo impianto ebbe vita fino ad età Sasanide e la sua Acme si colloca nel periodo Partico. È qui che, crollato l'impero Chemenide ad opera di Alessandro, compare Eracle Callinikos, a testimonianza della attività seleucide As Bisutun. La sua immagine fu scolpita ad alto rilievo negli ultimi anni del controllo seleucide dell'Iran, nel 148 a.C., ma fu scoperta soltanto nel 1975 in occasione di lavori stradali. La posizione della scultura è molto meno imponente di quella del rilievo di Dario, ma comunque viene in vista su uno sperone roccioso un poco avanzato rispetto alla porta della recinzione. Eracle è disteso sul fianco sinistro, in posa rilassata, con una coppa in mano davanti a un alberello da cui pendono faretra e arco. Ai lati sono la clava appoggiata alla roccia e una piccola stele su cui è incisa una breve iscrizione in greco e, per mancanza di spazio, solo l'inizio della versione aramaica del testo. Degli attributi del Dio, solo la leontè non fu eseguita. È infatti su un leone che egli riposa, un leone più antico, posto a protezione della porta della fortezza. Il suo stile di esecuzione non ha nulla di greco. Eracle non giace sulla leontè, ma è lievemente arretrato dal bordo della scultura e nel modellarlo è stato cancellato l'attacco della coda al dorso dell'animale. Il confronto con un rilievo rupestre ellenistico nelle cave di pietra di Saliari, nell'isola di Taso, mostra come un artista greco rappresenta la relazione tra l'eroe e la sua leontè. Tutto è naturale, realistico, a Taso. La leontè è morbida, naturalistica. L'eroe giace a stretto contatto sopra di essa, appoggiandosi alla testa del leone. Ma perché lo scultore seleucide ha scelto proprio questa roccia che era già occupata dal vecchio leone? Qui e non altrove Eracle doveva stare, perché questo sperone roccioso è anteposto alla porta che, appena girato l'angolo a sinistra, dava accesso alla recensione. Il rilievo di Eracle dunque somma i poteri del Dio a quelli apotropaici del leone più antico, che non fu eraso, ma fu ambiguamente compreso nell'immagine di Eracle, come se fosse la sua leontè. Insomma, lo scultore si è risparmiato un lavoro. D'altra parte, anche la politura della scultura di Eracle non è compiuta perfettamente. L'eroe è nella posa del simposiasta greco, ma la coppa che tiene è un oggetto rituale, nulla a vedere con Ercole Bibax. Dal suo volto spira la serena maestà dell'eroe nel meritato riposo dalle fatiche terrene, nell'assumere lo stato di eterna giovinezza degli dei greci. Sullo sfondo sono le sue armi, quasi un catalogo di quelle da lui usate, arco e freccia comprese. Un corto osservatore iranico avrebbe potuto trovare in queste ultime un riferimento alla propria cultura. I parti erano formidabili arcieri. Ma l'arco è anche arma di Eracle, benché l'arte ellenistica abbia scelto la clava come sua arma emblematica. Anche nell'Oriente iranico l'eroe è comunemente rappresentato con la clava. Nell'arte arcaica, però, egli maneggia molto spesso arco e frecce. È addirittura in grado di servirsene contemporaneamente, come nella scena dipinta da Efronio nel 510 circa avanti Cristo, su una chiusa attica a figure rosse. Eracle avanza all'assalto del triplice corpo di Geroneo, già colpito da alcune frecce, brandendo alta la clava con la destra e stringendo arco e frecce nella sinistra. Dunque, tutto è spiegabile da un punto di vista culturale greco nel nostro rilievo. L'iscrizione informa che Eracle Callinikos fu qui scolpito da Jacintos, figlio di Pantaophos, evidentemente un funzionario d'alto grado dell'amministrazione civile o militare seleucide, per la salute di Cleomene, il quale aveva il comando delle satrapie superiori. Termine questo con cui si disegnavano genericamente le province orientali iraniche dell'impero seleucide. L'epiteto Callinikos è particolarmente adatto a Eracle, vincitore di tante imprese, ma il suo contesto d'uso nelle epigrafi non ha implicazioni militari né riferimenti mitologici precisi, ha invece un significato genericamente morale. Eracle qui non è solo vincitore delle passioni umane e del lato mortale della sua natura. La formula per la salute di un personaggio è comunemente usata per scoppi profilattici e apotropaici nel mondo greco-romano. Iscrizioni e immagini di questo tipo si trovano spesso in contesti domestici e in spazi pubblici di particolare importanza. Il rilievo di saliari ne fa il dio dei minatori e delle cave di pietra. Immagini di Eracle sono collocate presso porte urbiche, cinte murarie, torri, eventualmente con immagini di altri dei, come Dioniso ed Ermes. Non solo. Eracle, in quanto dio dei viandanti, estende la sua protezione anche a importanti spazi pubblici all'interno delle mura urbane. A Efeso, ad esempio, due rilievi mostrano Eracle ed Ermes in forma di erma. Eracle è arcaizzante, con manto e clava, ma con volto giovanile in berbe e capelli riccioluti. Provenienti da una palestra o da un ginnazio di età adrianeo-antonina, essi furono riutilizzati nel portale tardo-antico sulla via dei cureti, a protezione dei cittadini che passavano per la via principale della metropoli. La Mesopotamia Lirandiesa, Seleucide e Partica, offrono testimonianze delle virtù profilattiche di Eracle in contesti del tutto analoghi. Nei Monti Zagros, ai confini tra la media troppatene e la grande media, una epigrafe greca della prima metà del III secolo a.C. nel settore residenziale dell'antico complesso rupestre di Carafto, recita, Eracle abita qui, stia fuori il male. A dura euro posto sulle frate è un rilievo di Eracle a proteggere la porta principale della città con la sua immagine e una bilingue in greco e palmireno. Ma è soprattutto la città araba di Atra, nella jazira dell'Iraq settentrionale, che offre testimonianze della continuità dei sentimenti profilattici ispirati dall'Erable greco-romano fino ad età tardopartica. Nella porta nord della cinta muraria, che è una struttura militare con fossati, mura, torri, ma che comprende anche strutture abitative, il vano d'ingresso è reso un saccello di Eracle propilaios dalla statua del Dio collocata in una nicchia. Le vagioni erano fatte al Dio sulla coppa tra gli acroteri di un piccolo altare e i fedeli potevano deporre offerte in un'altra piccola coppa scolpita sul lato frontale dell'altare. Quest'ultima è dotata di un foro di comunicazione con l'interno del pilastrino e in effetti qui sono state trovate alcune monete. Eracle è dunque protettore della porta e delle mura cittadine, ma anche del viandante che entrando o uscendo offriva a Danaro in ringraziamento della protezione ricevuta o invocata. Nei territori seleucopartici Eracle è raffigurato alla greca, nudo, con leontè e clava. A Atra tiene spesso in mano una coppa o un oggetto rotondo, un riferimento ai pomi delle speridi, ed è spesso adorno di gioielli locali. Perfino nella statua che Quinto Petronio Quinziano, tribuno della nona coorte gorgiana, dedicò prosalute domini nostri Augusti. A Atra Eracle è talora equiparato a Nergal, l'antico dio mesopotamico degli inferi. Talora, a Ghinda, dio locale della fortuna, una specie di tiche. Nel mondo seleucopartico, egli è equiparato a diverse divinità locali, semitiche e iraniche, riconoscibili solo in presenza di epigrafi o di riferimenti iconografici precisi. Sicura la sua identificazione con l'iranico veretragna, nel caso della bilingue grecopartica, incisa sul bronzo ellenistico di Eracle, che il re vologese, vincitore nel 150-51 d.C. della guerra di Mesene, la regione all'invocatura dell'olfo persico, aveva portato a Seleuce al Tigri per consacrarla nel tempio di Tir, divinità corrispettiva di Apollo. Anche il viaggiatore iranico che rendeva omaggio all'Erable di Bisutun poteva pensare veretragna, il quale, come Eracle, era dominatore di mostri e protettore dei viandanti. E Iacintos avrebbe probabilmente scritto questo nome divino nella versione arimaica dell'epigrafe, se l'avesse compiuta. Insomma, Iacintos non poteva trovare il luogo più adatto di questa porta della media o dell'Asia per un'immagine profilattica di Eracle. Questo passaggio del dio dalla piana ai monti dell'Asia può rappresentare un degno corrispettivo orientale del passaggio dal Mediterraneo all'Atlantico segnato dalle colonne di Ercole. Passaggio invaricabile quest'ultimo, perfino per Eracle, che pur aveva arrecato la fronte alle porte degli inferi dove gli fu permesso di catturare Cerbero. Grazie dell'attenzione.